Rivoluzione alla Regione, il presidente Renato Schifani prepara un piano per riformare il sistema delle nomine della dirigenza regionale. Intergruppo EcoDigital e Lars, la parlamentare regionale Movimento 5 Stelle e Jose Marano, ricoprirà il ruolo di presidente e coordinerà le iniziative del gruppo. Da domani inizieranno i lavori per asfaltare la Via Lincoln a Palermo, così come altri interventi mirati su Viale Regione Siciliana. Torna Piano City Palermo, giunto alla sua settima edizione. Da venerdì a domenica la città si trasformerà in un grande palcoscenico. Dieci pannelli dedicati ai cronisti uccisi da Cosa Nostra, sono loro i protagonisti di una mostra curata dall'ordine dei giornalisti di Sicilia a New York. Ben ritrovati al primo appuntamento con l'informazione di Media News. Apriamo con la politica rivoluzione alla regione. Il presidente Renato Schifani prepara un piano per riformare il sistema delle nomine della dirigenza regionale. La prossima settimana Lars il voto sulla nuova legge. Intanto, dopo la prematura scomparsa di Maria Mattarella, il pensionamento di Lizio e Requirez, minir impasto per riempire le posizioni vacanti di sanità, infrastrutture della segreteria generale. Rivoluzione alla regione. Il presidente Renato Schifani prepara un piano per riformare il sistema delle nomine della dirigenza regionale siciliana. La prossima settimana Lars dovrebbe essere approvata una legge che apporterebbe un cambiamento profondo nel sistema delle nomine, ampliando di molto la platea degli aspiranti dirigenti. La parte principale della legge, infatti, prevede il superamento delle tre fasce di dirigenti e la creazione di una fascia unica. Secondo la prassi attuale, possono essere nominati a capo di un dipartimento solo i dirigenti di prima e seconda fascia, cosa che limita la scelta ad un ventaglio di nomi molto ristretto. Con la creazione della fascia unica, anche i 700 dirigenti, attualmente in terza fascia, rientrerebbero nel numero dei nominabili, ampliando così enormemente alla platea dei papabili e consentendo ampi margini di manovra per azzerare l'attuale oligopolio della burocrazia regionale. Un altro aspetto importante della nuova legge sarebbe quello di evitare l'equiparazione dei dirigenti di lungo corso con quelli neoassunti, aspetto importante considerato che il presidente Renato Schifani ha da tempo avviato le procedure per concorsi che porteranno all'assunzione anche di un centinaio di nuovi dirigenti. Per queste ragioni, da settimane in atto un pressing di Palazzo d'Orleans sull'Ars e sulla maggioranza per accelerare l'arrivo in aula della riforma che è previsto per la prossima settimana, ma che presenta non poche insidie. Questa infatti è la prima prova d'aula dopo le divisioni nella maggioranza seguite alle nomine dei vertici della sanità pubblica. Nel frattempo il presidente è alle prese con un mini prematuro rimpasto che anticipa di qualche mese la rivoluzione che dovrebbe essere frutto della riforma. Dopo la prematura scomparsa di Maria Mattarella, infatti, il governatore si trova costretto ad assegnare la poltrona di segretario generale. Il favorito per la successione è Giovanni Bologna che lascerebbe a sua volta l'incarico di capo dell'ufficio legislativo e legale. A quel punto, complice il prossimo prepensionamento di Require Zellizio, Schifani dovrebbe riempire anche queste due prestigiose caselle nell'attesa di poter fare un più profondo articolato rimpasto su una base più ampia, salvo che la sua maggioranza all'Ars non gli riservi qualche sorpresa. La Commissione parlamentare di inchiesta per le periferie a Palermo per fare un'analisi approfondita e una fotografia dello stato dell'arte ed elaborare proposte concrete da presentare in Parlamento. Prima tappa, nella scuola Pulisi nel quartiere Brancaccio. Abbiamo avuto degli incontri molto profibili, abbiamo raccolto un materiale prezioso per il nostro lavoro. Noi siamo una Commissione parlamentare di inchiesta che si pone un tipice obiettivo. Da un lato analisi e approfondimento e una fotografia dello stato delle periferie, delle proposte concrete da presentare in Parlamento. E terzo aspetto al quale teniamo moltissimo è quello della presenza sui territori. Quindi senza barchette magiche arriviamo sui territori, incontriamo le istituzioni, incontriamo i cittadini, le realtà che operano nel sociale e poi al nostro ritorno elaboriamo anche delle idee e delle proposte che poi sottoporremo al Parlamento. L'idea che io personalmente ho avuto anche dagli incontri di questa mattina, in particolare quello con l'amministrazione comunale, col sindaco Lagalla, è di una città in cammino, una città in movimento. Ci sono progettualità importanti per circa un miliardo di euro che sono in itinere. E tra l'altro una progettualità integrata per la riqualificazione delle periferie. Intergruppo Eco Digital. All'Ars la parlamentare del Movimento 5 Stelle, José Marano, ricoprirà il ruolo di presidente e coordinerà iniziative del gruppo composto da altri 12 deputati. Progetti e azioni concrete affinché la Sicilia colga le opportunità derivanti dall'innovazione green e tecnologica. Portare in Parlamento siciliano la sfida della transizione ambientale e digitale è un impegno che ho assunto con un obiettivo preciso, quello di favorire un cambio di passo significativo su innovazione tecnologica, green, economia circolare e crisi climatica. Con queste parole la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, José Marano, ha commentato la costituzione dell'intergruppo parlamentare Eco Digital all'Assemblea regionale siciliana. Insieme ai miei colleghi deputati regionali porteremo avanti i progetti e azioni concrete per far sì che la Sicilia colga le opportunità di questa sfida che non possiamo assolutamente sottovalutare o peggio ancora perdere. L'intergruppo parlamentare appena costituito rappresenta la risposta all'appello lanciato da Alfonso Pecoraro Scano, già ministro e oggi presidente della Fondazione Univerde, promotore della rete Eco Digital. La sfida Eco Digital per la transizione ecologica e digitale si rafforza. Nasce il primo intergruppo in una regione italiana nel Parlamento regionale della Sicilia e ringrazio José Marano dei 5 Stelle che era presidente di questo intergruppo e tutti però i 15 deputati e deputate regionali che appartengono a tutti i gruppi parlamentari del Parlamento siciliano. La prima iniziativa dell'intergruppo Eco Digital del Parlamento siciliano la faremo per il contrasto alla siccità che è una grande emergenza nell'isola ma anche in tutto il Mediterraneo. Portare in Parlamento siciliano la sfida della transizione ambientale e digitale è un impegno che ho assunto con un obiettivo ben specifico, quello di favorire un cambio di passo significativo su green, innovazione tecnologica, crisi climatica, economia circolare. Tutti i temi che confuiranno nell'intergruppo parlamentare e ringrazio tutti i miei colleghi deputati che con molto entusiasmo hanno aderito a questo progetto. Ringrazio Alfonso Pegoraro Scani che da sempre si fa promotore della sfida Eco Digital. La Sicilia non può perdere questa opportunità di recogliere questo momento, cogliere questa sfida che non si può assolutamente sottovalutare. L'onorevole Marano ha comunicato che in data 7 agosto 2024 è stato costituito l'intergruppo parlamentare Eco Digital. L'estate è ormai alle spalle, le temperature si sono abbassate e comincia a piovere ma la crisi idrica in Sicilia è ancora un problema persistente. La regione, secondo il PD, non ha messo in atto tutti gli strumenti necessari per superarla. Una situazione assolutamente da attenzionare e noi lo facciamo tra l'altro oramai da oltre un anno ma registriamo l'immobilismo del governo Schifani e del governo Meloni. E da questo punto di vista è assolutamente inaccettabile, incomprensibile come il governo Meloni non abbia chiesto l'attivazione a Bruxelles del Fondo Europeo di Solidarietà che è un fondo creato ad hoc per dare sostegno agli stati dell'Unione Europea nel qual cosa si verifichano situazioni eccezionali e la situazione della società in Sicilia è in una situazione assolutamente eccezionale che è da controllare sotto tutti i punti di vista anche perché abbiamo gli invasi che, lo dicevi assolutamente bene poc'anzi, non riescono a riapprovvigionarsi di acqua perché piove pochissimo, non piove oramai da oltre un anno. E allora l'impegno che noi chiediamo da parte del governo nazionale e del governo regionale è di mettere in campo tutte le risorse e tutti gli strumenti per fare fronte a quello che è un problema, un problema non solamente di tipo climatico, lo stiamo vedendo con quello che purtroppo sono le temperature eccessive che di anno in anno aumentano, ma anche un problema sociale ed economico, economico per gli agricoltori che non raccolgono più nulla, per la zootecnia che soffre perché non hanno da dare da bere agli animali, ma anche un problema sociale, lo vediamo con il razionamento idrico che oramai è in realtà, è una realtà in tanti comuni della nostra Sicilia e se dovesse continuare così senza l'adeguamento delle nostre condotte idriche non potrà fare altro che peggiorarsi e diventare purtroppo una triste realtà anche nella provincia di Palermo. In questo e per questo l'impegno del Partito Democratico che chiede il massimo sostegno a tutti i livelli istituzionali. Un incendio è divampato nello stabilimento della cementeria di Isola delle Femmine, il ruogo ha interessato il nastro trasportatore che trasferisce all'interno i materiali. La nube nera è stata causata dalla gomma del nastro che si è bruciata. Le fiamme erano visibili dall'autostrada Palermo-Mazzara del Vallo. I primi a lanciare l'allarme sono stati gli automobilisti in transito. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno impiegato alcune ore per spegnere l'incendio. La classifica generale del sole 24 ore sull'indice di criminalità anticipa i dati del Ministero dell'Interno riferendosi al 2023. In testa le grandi città turistiche ma Catania ha valore altissimo in relazione a forti e scippi. Vediamo. Con 3.852 denunce ogni 100.000 abitanti Catania si colloca al 24esimo posto nella classifica generale del sole 24 ore. È preceduta da Palermo in ventunesima posizione con 4.010 denunce in rapporto alla stessa fetta di popolazione. È seguita da Siracusa 25esima, Trapani 46esima, poi ancora Ragusa 55esima, Caltanissetta 57esima posizione, Messina 81esimo posto, penultima tra le province siciliane Agrigento al 93esimo posto, mentre Enna chiude a quota 100 con 2.364 reati ogni 100.000 abitanti. Il quotidiano economico, il sole 24 ore, assegna a Catania la 79esima fetta del grafico relativo agli omicidi colposi commessi nel 2023. Sono state presentate 2,1 denunce ogni 100.000 abitanti, valore più alto per quanto riguarda le violenze sessuali. Il capoluogo etneo conta 6,4 denunce, sempre riferimento allo stesso campione di popolazione e si colloca in 87esima posizione. Si conferma un quasi primato nei furti con strappo. La città di Catania è in posizione numero 6 a livello nazionale. Ben 34 persone ogni 100.000 residenti hanno subito uno scippo. Valori pessimi anche per quanto riguarda i furti sulle auto in sosta. siamo decimi con 261 denunce in rapporto allo stesso campione di riferimento. E ancora la città di Catania è quinta in scala nazionale per auto rubate. Ogni 100.000 abitanti, ben 506, hanno presentato una denuncia per questa tipologia di reato nel 2023. Sul fronte delle rapine molti fanno di peggio. Ci fermiamo al 25esimo posto. Anche sul fronte dello spaccio di stupefacenti, il capoluogo etneo è superato da realtà più grandi, collocandosi comunque a quota 46. Meno ore da compensare con buoni pasto. Una proposta irricevibile per gli operatori della SEUS 118 che si rivolgono alla Corte dei Conti per danno erariale. Ascoltiamo Raffaele Faraci, responsabile regionale COMBAS 118. In qualche modo dovrebbe ricompensare, però alla base ci sta che noi abbiamo provato tempo fa, anche con delle contrattazioni sindacali, a rendere le cose più facili. L'azienda tutto questo non è riuscito con tutto ciò a dare delle ore precise da fare. Ci ritroviamo a dare, però anche qua è successo che oggi l'azienda si trova un danno economico irariale in cui non lo stiamo portando alla Corte dei Conti. Purtroppo è una cosa non fattibile e vogliono recuperare queste ore l'azienda stessa con i buoni pasto che sono intoccabili per legge. Speriamo che abbiamo chiesto l'intervento del Prefetto perché giustamente noi dichiariamo lo stato di agitazione e in più se non ci sarà un tavolo di raffreddamento andremo in sciopero. Perché ha parlato di danno erariale? Perché il danno erariale diviene che questi soldi delle ore sono a spese del contribuente e diventa pubblico. Non sono soldi pubblici, non sono soldi dell'azienda. Qua interverrà la Corte dei Conti come abbiamo detto e con i nostri avvocati dovrà risolversi in un certo qual modo. Certo se la Corte dei Conti ci chiederà di recuperare le ore saremo felici a farlo ma questo accordo lo dobbiamo trovare tramite gli avvocati ormai con la Corte dei Conti e non più con la SEOS. Da domani inizieranno i lavori per asfaltare via Lincoln a Palermo così come altri interventi mirati sul viale della regione siciliana. Lo comunica Salvatore Orlando, assessore ai lavori pubblici del Comune. Le strade di Palermo si rifanno in look, proseguiranno i cantieri tra mercoledì e giovedì in vari punti della città. Ma qual è la situazione attuale? La situazione è quella che abbiamo annunciato qualche mese fa e di un costante intervento sugli asfalti di questa città e sulle strade di questa città. Oggi si sta lavorando in due, mediamente si lavora su tre cantieri a settimana, domani inizieranno i lavori su via Lincoln, si continuerà sull'asse del Tribunale, via Ghete, via Tullisi, si scenderà su via Villa Filippina. Quindi i cantieri sono costanti, giornalieri, con una programmazione che va da qui a qualche anno. Invece per quanto riguarda via la regione siciliana, quell'asse? Sull'asse via la regione siciliana abbiamo un'interlocuzione con un tavolo tecnico istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici con ANAS e il Comune per una gestione complessiva dell'intero asse, ma contestualmente si stiamo occupando della manutenzione ordinaria che prevede una serie di rifacimenti di tratti ammalorati e la sostituzione delle barriere in alcuni punti dove erano veramente in condizioni critiche. Quanto dureranno questi lavori? I lavori continuano da qualche mese e dureranno ancora qualche mese. In alcuni tratti li abbiamo fatti di notte, in alcune le barriere le abbiamo sostituite di notte. Cerchiamo, lavorando, di arrecare meno disagi possibili alla circolazione. E ora a Messina, Will e CGL insieme per la raccolta firme per il referendum contro l'autonomia differenziata. L'autonomia differenziata è una battaglia che vede insieme Will e CGL, la sensibilizzazione della popolazione, questa raccolta firme per chiedere il referendum, come sta andando? Ma è stata una sorpresa anche, una positiva sorpresa anche per noi, perché raccogliere le firme ad agosto non era né scontato né semplice. Invece noi abbiamo avuto un boom intanto con le firme online. Solo con le firme online noi abbiamo già raccolto e superato l'obiettivo delle 500.000 firme che sono l'obiettivo per chiedere appunto poi l'abrogazione del referendario. E contestualmente abbiamo un numero importante, decine di migliaia di firme ai banchetti che a Zebo, anche qui a Messina, noi abbiamo portato avanti questa campagna con tanti banchetti, tante presenze in tutto il territorio provinciale. E i numeri sono assolutamente significativi e importanti. Evidentemente nonostante qualcuno pensava che la gente non capisse o non comprendesse la portata della questione, la legge Calderoli, poi di questo si tratta, del leghista Calderoli, del leghista della prima ora, di quello che chiedeva la secessione del nord e del sud del paese, la legge Calderoli che oggi appunto si chiama autonomia differenziata, i cittadini del sud, al di là dell'appartenenza politica, di quello che sono la propria sensibilità culturale, politica, eccetera, ha firmato con grande consapevolezza e in grande numero. Quindi è importante perché l'autonomia differenziata, lo ribadiamo, rischia davvero di essere la certificazione definitiva di uno scollamento e di uno spaccamento del paese in due. Da un lato un sud che sarà sempre più abbandonato, già oggi, e ne parliamo sui temi della sanità, sui temi dei trasporti, sui temi della scuola, già oggi il sud è in gravissime difficoltà. Figuriamoci domani con un sud che diventerà davvero terra di nessuno, senza diritti, senza contratto di lavoro, perché poi salteranno i contratti nazionali di lavoro, e con un nord invece che nonostante qualcuno pensa che potesse giovarne da questa autonomia differenziata, invece anche al nord c'è un grande successo di firme, perché capiscono che è un'Italia spaccata nei fatti in due, però strettamente interconnessa e connessa, non è assolutamente accettabile, quindi anche il nord potrebbe poi subire le conseguenze. E cambiamo argomento, tumori, testa, collo, i sintomi da non sottovalutare al Cannizzaro di Catania, due giornate di screening per la diagnosi precoce. Vediamo. Torna la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo, promossa a livello nazionale dall'Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica. Anche quest'anno la divisione di Otorino Laringoiatria dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro ha aderito all'iniziativa con due giornate ad accesso gratuito. Mercoledì 18 e venerdì 20 settembre, dalle 9.30 alle 12.30, nell'ambulatorio di Otorino Laringoiatria e patologia cervico-facciali, sarà possibile sottoporsi a screening per sospette patologie neoplastiche del distretto testa-collo. Non serve prenotazione, sarà seguito l'ordine di arrivo. Sul sito dell'Ioc è consultabile l'elenco completo dei centri medici che partecipano alla campagna da oggi fino a venerdì con il motto un sintomo per tre settimane, tre settimane per una vita, ovvero la regola da tenere sempre a mente quando si tratta dei carcinomi cervico-cefatici. Come ricorda l'Ioc, gli esperti sono d'accordo nel dire che se è presente anche solo uno di questi sintomi per tre settimane o più è necessario rivolgersi al medico, dolore alla lingua, ulcere che non guariscono, macchie rosso-bianche in bocca, dolore alla gola, rauciadine persistente, dolore e difficoltà a declutire, gonfiore del collo, naso chiuso da un lato e perdita di sangue dal naso. Una rapida comprensione della visaglia della malattia è cruciale per una diagnosi precoce in presenza della quale il tasso di sopravvivenza sale all'80-90% contro un'aspettativa di vita di soli cinque anni per coloro che scoprono la malattia in fase avanzata. La struttura complessa di Otorino Laringoiatria dell'ospedale Cannizzaro, diretta dal dottor Vincenzo Saita, consolidato punto di riferimento nel trattamento delle patologie della laringe oncologica e non, tratta ogni anno circa 500 casi di tumori e lesioni precancerose della laringe che uno screening può contribuire a diagnosticare tempestivamente. Torna Piano City, Palermo, giunto alla sua settima edizione da venerdì a domenica, la città si trasforma in un grande palcoscenico con più di 40 concerti. Tra gli ospiti di questa edizione, Raffaele Gualazzi. Questo è un festival estremamente eterogeneo e abbata tutto, andiamo dalla classica al jazz, alla contemporanea, al pop, all'elettronica. Molto molto particolare secondo me è sentire le commissioni tra pianoforte ed elettronica che avremo perché c'è tutto un nuovo genere che sta nascendo in centro Europa che è portato avanti da Nitz Framo, la Fura Arnald, che appunto mischia l'elettronica e il pianoforte. Su questo avremo Mattia Morleo in chiusura che farà un bellissimo concerto al Mono Trapezzo Italia di Palermo che è ad esempio un modo per vedere dove sta andando a finire il genere. C'è tantissima neoclassica e sono tantissimi compositori, soprattutto neoclassica ma anche di jazz. Ci sono delle punte per tutti, i gusti, appunto dall'esempio dell'elgezza abbiamo Rita Marco Tulli, pure abbiamo Domenico Sanna, abbiamo per la prima volta un Gualazzi che si esibisce in solo piano senza cantare, abbiamo Francesco Mancarella che adesso è appena tornato proprio giorni fa da un disco registrato a Parigi, prima in Islanda, che è molto particolare. Se fosse un piatto sarebbe un grande fritto di pesce dove c'è un po' di tutto per tutti i gusti. Piano City è una manifestazione importantissima per due motivi. Intanto perché consente a tanti talenti, a tanti giovani artisti di esibirsi in città e poi perché accende riflettori su luoghi della città che sono o già belli e visitati o su luoghi che in qualche modo vengono riqualificati dalle attività musicali di questa iniziativa. Ecco perché Piano City sposa e coniuga queste due realtà, quella musicale e artistica che quest'anno peraltro vede la sinergia tra enti, istituzioni, associazioni culturali, quindi una sinergia ampia con oltre 40 concerti e location, che sono le nostre splendide location e altri luoghi che in qualche modo diventano significativi per la storia cittadina. Si correrà il prossimo venerdì sul lungomare di Mondello e in contemporanea in 40 città d'Italia la Pijama Run 2024 di Lilt, l'associazione che da un secolo si dedica alla lotta contro i tumori. Si può percorrere a piedi, in bici, sui pattini, sui monopattini, purché in Pijama la partenza sarà l'ingresso del club canottieri Rogero di Lauria. Sono aperte le iscrizioni per la Pijama Run a Mondello venerdì prossimo. Di cosa si tratta? La Pijama Run è un evento di beneficenza che serve per raccogliere fondi per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica dell'Arnas Civico di Palermo, nel nostro caso. È un evento nazionale che coinvolge 40 città, 40 Lilt in diretta e in contemporanea e Palermo quest'anno fra l'altro è il quarto hub nazionale insieme a Milano, Roma e Bari. Quindi avremo il montaggio di un maxi schermo. La nostra Pijama Run è una corsa passeggiata fondamentalmente perché è destinata a tutti, anche alle famiglie. Si può fare correndo, camminando, in passeggino, col monopattino. L'importante è il Pijama. Il Pijama è un simbolo fondamentale perché è il simbolo che testimonia la vicinanza nei confronti dei bambini che sono costretti a stare in Pijama tutto l'anno, tutto il tempo in cui sono ricoverati. Non è un caso che la Pijama Run venga organizzata a settembre perché settembre è il mese del Gold Ribbon, e le mese dei tumori pediatrici. Quest'anno a Palermo noi abbiamo voluto fare una grande festa, quindi cominceranno le attività per bambini dalle 16.30 con dei laboratori di radici, Piccol Museo della Natura e Circo Pificio. Poi ci sarà Lucilla, che è la nostra madrina, che è una cantante per bambini youtuber che darà il via alla corsa e incontrerà i bambini. Poi ci sarà appunto la corsa vera e propria in Pijama e poi alla fine un piccolo aperitivo, è un spettacolo di zumba e balli di gruppo curato da Giulietta Pedone. Siamo tutti in attesa di questa grande giornata, sono aperte le iscrizioni, ci si può anche iscrivere e ci si può iscrivere anche il loco. Al momento ci si può iscrivere sul sito www.pijama-run.it slash palermo oppure direttamente alla sede della Lilt in Biaton del Revel 10. Viene dato un pacco gara, il pacco gara che prevede una donazione di 15 euro, che è quella che va nel fondo dei bambini al reparto di oncoematologia, contiene una serie di gadget di sponsor. A Palermo abbiamo deciso che per la nostra Pizzo Marrano il pacco gara deve essere acquistato soltanto dagli adulti, non per i bambini. I bambini verrà data comunque al villaggio una pettorina per partecipare, così tutta la famiglia può godersi questo evento ed essere presente. Dieci pannelli dedicati ai coronisti di Sicilia uccisi da Cosa Nostra. Sono loro i protagonisti di una mostra curata dall'Ordine dei giornalisti di Sicilia in collaborazione con l'Unione Siciliana Emigrati e Famiglie che ha fatto tappa a New York. Vediamo. Dieci pannelli dedicati ai cronisti uccisi da Cosa Nostra. Sono loro i protagonisti di una mostra curata dall'Ordine dei giornalisti di Sicilia in collaborazione con l'Unione Siciliana Emigrati e Famiglie che ha fatto tappa a New York. Da Cosimo Cristina a Mauro De Mauro, da Giovanni Spampinato a Mario Francese e ancora Peppino Impastato, Giuseppe Fava, Mauro Rostagno, Beppe Alfano, Maria Grazia Cutuli. A loro è stata dedicata Testimoni della Verità che arriva all'Istituto Italiano di Cultura dopo una tappa al Parlamento Europeo di Strasburgo. All'inaugurazione hanno partecipato tra gli altri il console generale Fabrizio Di Michele, il presidente della Commissione Antimafia dell'Assemblea regionale siciliana Antonello Cracolici, il presidente dell'USEF Angelo Lauricella, il deputato del PD eletto nel Collegio Nord e Centro America Cristian Di Sanzo, il presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia Roberto Guelli e il vicepresidente Salvatore Licastri, il curatore della mostra Franco Nicastro. L'importanza è quella di raccontare la testimonianza di colleghi che hanno perso la vita come facendo i giornalisti, cercando di portare la verità, di confrontare le fondi, di pubblicare le notizie e purtroppo hanno perso la vita. E sono queste le testimonianze che abbiamo portato qui a New York, agli istituti di cultura, per raccontare la storia di questi colleghi che hanno consumato le suole, come dicevano i nostri maestri, per fare del buon giornalismo che ha dato fastidio a qualcuno. Il nostro mondo ha bisogno di memoria, di sapere la nostra storia, ma di rinnovarla nel tempo in cui viviamo. Perché la mafia è ancora forte, anche se ha perso, perché ha cercato di fare un'attività stragista di tipo terroristico, alla fine hanno perso, ma la mafia è infiltrata nelle istituzioni, nell'economia, e quindi va contrastata anche con la memoria. E' importante che una mostra di questo genere faccia il giro del mondo, perché ovunque ci sono italiane si possa discutere un po' su quello che è stata una fase nella lotta contro la mafia e di come i passi avanti siano stati fatti. Questi passi avanti sono dovuti all'impegno dei giornalisti, tanti dei quali hanno perso la vita assieme all'impegno dei magistrati, all'impegno di tanti sindaci, all'impegno di tanti lavoratori, di tanti democratici, perché la battaglia alla mafia si vince nella misura in cui si scoperca un sistema. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento alla prossima edizione di Media News, vi auguro buon proseguimento di ascolto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti